La manifestazione in San Domenico La manifestazione in San Domenico La manifestazione organizzata dal Consorzio Santa Trinita che andrà avanti fino al 1 agosto Ascoltate Ultimi ritocchi per l'inaugurazione dell'estate in San Domenico La nuova manifestazione è nata sulla scia dell'esperienza positiva dell'estate in Sant'Orsola Saranno 18 serate di musica, divertimento ma anche cultura alla scoperta del complesso di San Domenico e di tante zone limitrofe del centro storico promotori dell'iniziativa il Consorzio Santa Trinita in collaborazione con il gruppo storico San Domenico l'Azione Cattolica, Artemia e la Diocesi di Prato Si parte ufficialmente quindi domani sera qui nel Chiostro con 27 ristoratori che prepareranno le loro tapas per tutti i curiosi e la manifestazione andrà avanti fino al prossimo 1 agosto 18 serate come saranno strutturate? Saranno strutturate dal martedì al giovedì dalle 7 e mezzo a mezzanotte ritorno all'aperitivo diffuso quindi al netto della serata di apertura del 18 abbiamo fatto una mappa che chiunque voglia fare una passe data in centro storico avrà un'opzione particolare in più perché potrà incontrare sul suo percorso una delle 29 attività che hanno aderito con un proprio menu, quindi con un proprio prezzo si ferma, prende il picnic e viene qui al San Domenico o nel Chiostro o nel Giardino se vuole ancora maggiore relax potrà portare i bambini perché ci sarà un'area di laboratorio per i bambini dove quindi troverà un'offerta che va dalla musica alla conferenza allo spettacolo teatrale e al concerto dal vivo ce ne saranno uno per settimana Ci saranno visite guidate laboratori per bambini il tutto alla scoperta anche di spazi che generalmente sono chiusi spettacoli teatrali e soprattutto a breve ci sarà la riapertura temporanea del museo di San Domenico in cui c'è il crowdfunding ancora attivo per cui questo è il momento di dona, dona, dona perché mancano tre giorni e tramite la piattaforma Eppela si può donare oppure chiamate l'associazione Artemia e vi seguiremo passo passo in tutte le funzioni diciamo per poter donare Quando potremmo vedere il museo riaperto? Allora è un cantiere in movimento grazie al crowdfunding e quindi ai contributi dei tanti cittadini pratesi e anche da fuori Prato che sono arrivati siamo già in un avanzamento abbastanza presente perché le teche sono quasi realizzate le aziende stanno lavorando si spera che nel mese di luglio di girare la chiave del museo di San Domenico e renderlo alla cittadinanza in modo temporaneo vediamo se arriviamo a luglio, settembre forse ottobre e poi ci inventeremo qualcosa di nuovo per proseguire questa nostra iniziativa è stato pubblicato oggi il bando per il contributo affitto 2019 la domanda potrà essere presentata fino al 31 luglio esclusivamente online tramite il sito internet del comune di Prato il cittadino a partire da quest'anno quindi non dovrà recarsi ai CAF mercoledì al via gli esami di maturità oltre 1600 gli studenti pratesi impegnati e anche quest'anno sono previste alcune novità nella formula per tanti le vacanze sono cominciate da qualche giorno altri invece dovranno ancora aspettare un po' prima di godersi il meritato riposo sono più di 1600 gli studenti pratesi che da mercoledì saranno impegnati con l'esame di maturità l'ultimo ostacolo sempre temuto saranno innati nel 2000 quest'anno a cimentarsi con le prove un esame in continua evoluzione che anche questa volta presenterà delle novità resta invariata la prima prova che sarà quella scritta di italiano gli studenti dovranno scegliere una tra sette tracce proposte novità per la seconda prova sempre scritta in programma giovedì che sarà legata alle materie caratterizzanti e l'indirizzo di studio al classico quindi gli studenti si troveranno di fronte sia greco che latino e allo scientifico fisica e matematica scomparsa la terza prova scritta si passerà all'orale dove gli studenti non saranno più chiamati alla stesura della tesina all'esame non prenderanno parte una trentina di studenti che purtroppo per loro non sono stati ammessi la bocciatura li costringerà a ripetere la quinta e a riprovarci l'anno prossimo si tratta di ragazzi del Marconi Datini, Gramsci, Keins, Buzzi, Dagomari mentre nei licei gli studenti delle quinte classi sono stati tutti ammessi all'esame in trenta parrocchie pratesi è iniziata la grande avventura degli oratori estivi e anche quest'anno paroci e giovani animatori hanno preparato attività giochi e laboratori uscite e momenti di animazione e di preghiera per gli oltre 2800 bambini e ragazzi iscritti ai Grest già definite inoltre la data della tradizionale festa diocesana degli oratori l'appuntamento di quest'anno in programma la mattina di mercoledì 19 giugno avrà un sapore particolare perché darà modo ai bambini e ai giovani di salutare e ringraziare Monsignor Franco Agostinelli la festa si terrà nel parco dell'ex ippodromo il titolo dell'incontro è Io corro per te e ha uno scopo benefico sia aiutare i bambini meno fortunati ad acquisire libri scolastici per il prossimo anno e ci spostiamo adesso a Poggia Caiano dove il comune è in cerca di aree inutilizzate da acquistare per realizzare dei nuovi parcheggi l'avviso è stato pubblicato sul sito e sarà disponibile fino al 6 luglio il comune di Poggia Caiano ha pubblicato un avviso per individuare una o più aree da acquistare per realizzare dei parcheggi pubblici i requisiti richiesti prevedono un collegamento funzionale con le infrastrutture un buon accesso alla rete stradale della città e la possibilità di godere di spazi confortevoli per la mobilità di auto e pedoni l'avviso è rivolto sia a soggetti pubblici che privati che siano in possesso di un'area nel comune di Poggio in particolare nella zona del centro cittadino tutti i dettagli e le informazioni sono reperibili sul sito del comune di Poggio a Caiano sia nella sezione Albo Pretorio che tra le news con questo avviso pubblico appunto chiediamo ai proprietari interessati sia soggetti pubblici che privati di comunicare all'amministrazione la loro eventuale disponibilità alla cessione delle loro aree per poi valutare eventualmente l'acquisizione e i successivi passaggi da fare il bando è aperto fino al 6 luglio quindi le domande di partecipazione possono essere presentate fino a quella data è una necessità molto sentita e abbiamo ritenuto opportuno verificare la disponibilità di questi tipi di aree sul territorio chi è che usufruirebbe secondo voi maggiormente di questi spazi adibiti a parcheggio? ma ne usufruirebbero tutti i cittadini sia i residenti ma penso anche ai turisti penso eventualmente poi ovviamente in base alle dimensioni alle caratteristiche dell'area anche i pullman a servizio della Villa Medicea la novità del bando rientra nel più ampio progetto di trasformazione del centro cittadino non a caso poco tempo fa l'amministrazione ha avviato il progetto di riqualificazione di Piazza 20 Settembre e ha dotato le aree più calde del comune di un sistema innovativo di videosorveglianza ci sono aree che sono già state proposte o individuate? ci sono delle aree che hanno questo tipo di destinazione individuate sugli strumenti urbanistici e la richiesta di manifestazione di disponibilità è rivolta principalmente a quelle ovviamente domani alle 21 alpecci torna l'appuntamento con la notte delle stelle la serata di premiazione dei protagonisti del calcio dilettanti e giovanile della Toscana la manifestazione è organizzata da TV Prato con la collaborazione di Almanaco calcio toscano campionando la nazione sarà la grande festa del calcio toscano torna l'appuntamento con la notte delle stelle la serata più attesa per la premiazione dei protagonisti del calcio dilettanti e giovanile della nostra regione la manifestazione è stata organizzata da TV Prato con la collaborazione di Almanaco calcio toscano campionando punto it e la nazione la serata si terrà anche questa stagione al centro pecci di Prato domani con inizio alle ore 21 con ingresso libero e sarà presentata da Massimiliano Masi e Diletta Bitorsoli confermata la presenza del sindaco di Prato Matteo Biffoni del presidente del comitato regionale toscano Paolo Mangini e del vicepresidente Massimo Tahiti oltre al presidente dell'associazione italiana arbitri della Toscana Vittorio Bini in questa edizione ci sarà anche un momento dedicato all'aggregazione ed inclusione con la consegna del premio Estra all'associazione quarto tempo di Firenze per il progetto calcio visionario che ha saputo dare la possibilità ai ragazzi non vedenti di cimentarsi nel gioco del calcio sempre in occasione della notte delle stelle sarà anche presentata la nuova edizione dell'almanacco calcio toscano 2019 saranno ben 35 i giocatori e le squadre premiate in rappresentanza di tutta la regione per quanto riguarda la provincia di Prato premio Assiteca futuro assicurato per il giovane bomber della Berretti del Torino il pratese Doc Matteo del Bianco premio TV Prato per il tecnico del Prato 2000 Andrea Diodato mentre il premio alla carriera della nazione a Daniele Pratesi del Seano e Daniele Gonnelli del Prato 2000 che dopo una lunga carriera hanno deciso di appendere le scarpe al chiodo insomma domani al centro pecci sfileranno le eccellenze del calcio dilettanti e giovanile della nostra regione un appuntamento da non perdere e passiamo adesso alle previsioni del tempo come sempre a cura del consorzio Lamma Buongiorno e ben ritrovati all'appuntamento con il meteo a cura del consorzio Lamma queste sono le ultime immagini che ci sono pervenute dal satellite dove possiamo vedere come gran parte dell'Europa si ha sgombra da nubi questo per la presenza di un anticiclone che ormai sta insistendo da alcuni giorni in realtà sulla nostra regione sul valdarno medio e inferiore attualmente sono presenti delle nubi basse ma che tenderanno rapidamente a dissolversi passiamo subito a vedere quindi la previsione per il pomeriggio di oggi all'insegna di un cielo parzialmente nuvoloso sulle zone interne con possibilità di qualche occasionale rovescio più probabile sulle colline metallifere e sulla miata si tratterà comunque di fenomeni molto brevi per quanto riguarda i venti saranno generalmente settentrionali in particolare saranno di maestrale su arcipelago litorale centro-meridionale dove localmente potranno risultare moderati e facendo sì che i mari possano essere mossi per quanto riguarda le temperature massime quest'oggi dovrebbero oscillare fra i 30 e i 32 gradi passiamo subito a vedere la tendenza invece per domani martedì all'insegna di un cielo generalmente sereno poco nuvoloso qualche addensamento più consistente sulle zone interne nel pomeriggio per quanto riguarda le temperature sono previste stazionari venti ancora prevalentemente settentrionali con qualche riforzo nel pomeriggio su arcipelago e litorale centro-meridionale con questo Udallamma è tutto e questa era l'ultima notizia al telegiornale termina qui il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato e per questa sera alle 20 e 30 grazie per averci seguito e arrivederci a presto